Uno zaino? No, mille! Questo è The Double Project. Scegli tra reversibile, digital plus e pro, anche in versione XXL. Acquista più cover e trasforma il tuo stile ogni volta che vuoi. Fatti notare con il pro e i suoi colori. Oppure fatti spazio con il pro XXL. Con tasca frontale e doppio scomparto, per una maxi capienza. Libera la tua creatività, vai sul sito e scopri 7 The Double Project. Play your style. Grazie a tutti.